Sono Angelo Bordino, mi occupo di artigianato artistico da circa dieci anni, un laboratorio ad Alba in provincia di Cuneo e da circa dieci anni ho fondato il mio brand che si chiama Angelo Bordino, ornamenti da indossare. Le mie non sono gioielli veri e propri ma sono quelli che io considero delle piccole sculture da passeggio appunto da indossare perché sono fatte ispirandomi al mondo della natura oppure in alcuni casi ci sono dei veri elementi naturali come in questo caso in cui c'è delle bacche rivestite in cera e poi fuso in bronzo. Poi gli dico come materiali il bronzo perché è un materiale povero ma che dà diverse possibilità e come tecniche uso principalmente la fusione a cera persa che è la tecnica utilizzata solitamente per la gioielleria e poi utilizzo anche la fusione in osso di seppia e la fusione in sabbia.